Mamma mia ragazzi, mamma mia, sono molto sorpreso, perplesso e dobbiamo ragionare insieme su sugli sviluppi. Detto che magari non sono negativi, ecco adesso ne parliamo insieme a voce alta come ci piace fare. Vi saluto, di nuovo buongiorno, un bel like qui sotto, iscrivetevi qui, attivate la campanella numerosissimi se volete prendere la maglietta di Milanello e indossarla a raduno del 5 giugno all'Area Club, davanti a San Siro, meglio alla primo Milanello Party Scudetto, questa è la maglia, c'è anche la versione rossa nuovissima che sta andando a ruba con il tricolor, la versione che celebra il 19esimo Scudetto la trovate su milanello.com con l'H e senza VV. Allora, siamo svegliati tutti questa mattina con l'intervista di Paolo Maldini sulla Gazzetta dello Sport, che è il classico fulmine a ciel sereno, shock, è uno shock ed è incredibile, perché abbiamo appena vinto lo Scudetto e volevamo portare avanti un'energia frizzante, positiva, cosa che comunque faremo perché è successo, c'è, però questa intervista sicuramente va analizzata, va visezionata e apre comunque riflessioni clamorose. Maldini, il titolo, io e Massara senza contratto irrispettoso, analizziamo i passi perché sono tanti anche in chiave poi mercato e futuro, lo ha fatto la Gazzetta dello Sport da casa sua, e lui dice, mi piace essere garanzia per ogni milanista, non sono una persona per un progetto non vincente, sappiamo, lui spesso ha rifiutato anche il Milan perché non c'erano garanzie, e questa volta ha fatto qualcosa di molto molto importante. Lui dice, io e Massara siamo in scadenza e non l'abbiamo rinnovato, per il percorso fatto la vicenda Ragnik trovo poco rispettoso che la D, Gazzidis ed Eliott, non si siano neppure seduti a parlare, dico solo a parlare, perché loro potrebbero dirci il vostro lavoro non è stato abbastanza buono per continuare, o può essere che io dica la vostra strategia non mi piace, a me piace essere una sorta di garanzia per il milanista, io non sono la persona giusta per fare un progetto che non ha un'idea vincente, non potrei mai farlo, la realtà è che la proprietà non si è mai seduta al tavolo e questa cosa non va bene. Prima riflessione, sappiamo che siamo in una fase di transizione, con Redbird che sta per entrare, e quindi è evidente che il rinnovo di contratto per entrambi, ed è apprezzabile che Maldini non parli solo per se stesso ma anche per Massara, non possa essere fatto, bisogna aspettare questa transizione. Dopodiché, sapevamo, immaginavamo, davamo per scontato, scegliete voi, che Maldini e Massara avessero ricevuto le garanzie, anche perché stavano continuando a operare per il mercato e sul mercato. Questa cosa che Elliot e Gazzilis non si siano neanche seduti per dire state tranquilli, arriva questa nuova proprietà, però vi rinnoverà, mi sembra una cosa abbastanza strana, però lo dice Maldini, ci dobbiamo fidare, e in questo senso, che dopo un'impresa del genere, dopo un capolavoro, più che impresa del genere, non abbiano avuto neanche informazioni, mi sembra effettivamente un po' poco rispettoso nei loro confronti, che siano tenuti all'oscuro di tutto, mi sembra effettivamente un po' strano. Prosegue l'intervista in un'escalation. Da mesi, ci siamo mossi sul mercato, come vi abbiamo detto, ci sono già due o tre cose, Orighi, Renato Sanchez, quasi, Botman, ma in questo momento, non abbiamo disponibilità economica, per questo salto di qualità, anche perché siamo in fase di passaggio. Quindi dice, datici, tant'è che da tempo, diciamo, questo passaggio, bisogna farlo subito, non ha mercato inoltrato, perché altrimenti, e aggiunge una cosa, che a me piace, tre big, ci permetterebbero di aprire un ciclo, con una strategia di alto livello, possiamo competere in grande. A me sembra questo un po' un tentativo di tirare dalla giacchetta, un tentativo di forzatura, nei confronti della prossima proprietà, perché entri con il piede giusto, perché capisca che Maldini, questa dirigenza, si aspetta degli investimenti, per fare il salto di qualità, non per rimanere lì. Lui dice, se non lo facciamo, poi si rimane nelle 6-7 italiane, noi vogliamo invece alzare il livello, aprire un ciclo, cosa che condividiamo evidentemente. Una cosa, dall'altra parte, che può essere positiva, dall'altra parte potrebbe essere vista diversamente, cioè che, forse questo nuovo fondo, vuole continuare con l'attenzione al centesimo, ma se Maldini non ha ancora parlato, quella proprietà, né quella nuova, né questa, non credo che abbia informazioni di, se arriveranno questi, si continuerà sulla falsariga di Elliot, se non attraverso indiscrezioni giornalistiche, che può aver letto. Lui evidentemente spera in un cambio di marcia, con la nuova proprietà. Prosegue, oggi, con visione strategica di alto livello, Milan potrebbe competere con le più grandi, se si sceglie al contrario, una visione di mantenimento, senza investimenti, senza idee da Milan, il rischio è quello di rimanere nel limbo. La proprietà è il lotto, la prossima, chiude il triennio, e capisca la strategia che vuole per il futuro. Mi sembrano dichiarazioni molto forti, di un dirigente che non è un dirigente normale, perché è un dirigente appunto che vuole essere garante per il milanista. Dall'altra parte, ovviamente, la proprietà per gerarchie è di un livello superiore. Mi sembra una uscita alla Maldini, però dei tempi in cui le cose non andavano bene. Prosegue in altri passaggi. Ripeto, sono molto colpito, come tutti i milanisti evidentemente, altri passaggi che vi riassumo, le ha o per noi è incedibile, può migliorare ancora. L'intenzione l'abbiamo ribadito più volte, anche nell'ultima ora, è quella di tenerlo. Pioli mi ha sorpreso la sua energia e appunto la volontà di prendere tre big sul mercato per aprire un ciclo. Ora ragazzi, mettiamo insieme un po' tutti le idee, poi leggerò anche i vostri spunti. è un'intervista a shock. Questa è. C'è anche il discorso appunto di Orighi, recupero altri passaggi. Bottman l'abbiamo seguito, ma di giocatori rivali di Inquerolo ce ne sono tanti. Poi ancora, dov'è che c'era anche la parte su Orighi? Stiamo parlando con Orighi e la cosa è molto ben indirizzata. Ecco, forse anche qui, lunedì Orighi dovrebbe fare le visite, però forse gli hanno detto no, aspetta perché mi avevano segnalato un mal di nio un po' nervoso una decina di giorni fa. Su Ibra non vedo problemi nel trovare un accordo, ci siamo dati appuntamento tra una quindicina di giorni, giocando così poco non è certamente a suo agio, vedremo cosa succederà nelle prossime due settimane. Tutto sarà fatto per il bene suo del Milan. Da ciò che ho capito la sua intenzione è quella di andare avanti. Quindi comunque parla per il futuro. Sulle aule abbiamo preso dalla panchina dell'Ide pagandolo 24 milioni e abbiamo messo subito una clausa a 150 perché credevamo in lui. Potenzialmente è sempre stato un campione, estremamente intelligente e va bisogno di essere un pochino aiutato. Ci ho parlato molto. Parla mia anche per Tonali. Ragazzi, la mia lettura. Tiro una riga. Sono sicuramente sorpreso scioccato. Se Maldini esce così evidentemente c'è qualcosa che non va bene per il suo futuro, per il futuro del Milan. Oppure, semplicemente, intanto, visto che i rapporti con Elliot non sono mai stati idilliaci, voglio togliersi dei sassolini prima che ci sia questo passaggio di proprietà. Però non mi sembrerebbe una cosa buona, non mi sembrerebbe una cosa a Maldini visto che scavalcherebbe il bene del Milan che viene soprattutto. Probabilmente si è sentito un po' colpito nell'orgoglio per il fatto che nessuno gli abbia detto tranquillo, rinnoviamo, comunque la prossima proprietà rinnova. oppure nessuno l'ha... Ecco, probabilmente questo. Mi piace pensare che sia questo, tra tutto, che non si sia sentito informato che sia stato trattato come uno esterno quando sta succedendo qualcosa di molto importante come un passaggio di proprietà. E quindi lui mette i puntini. Dall'altra parte, spero possa essere una forzatura per la prossima proprietà perché dica guarda che viva Chiara e non va bene. Vuole metterla forse un po' con le spalle al muro? È una mossa coraggiosa visto che tu comunque non hai un contratto e sei un dirigente. Però in questo momento lui è forte di un lavoro fatto benissimo e dell'apprezzamento della stima della stragrande maggioranza del popolo rosso-nero. Che si sia immolato un po' per il bene del Milan? Speriamo che sia questo. Sicuramente qualche elemento non ci torna. Sicuramente ecco come timing ho qualcosa da obiettare perché questa è la settimana dello scudetto avrei aspettato un po' sinceramente. Poi non so quale sia la sua strategia proveremo ad andare a fondo. Maldini vuole aprire un ciclo con tre innesti importanti. Però caspita. Ecco secondo me non ne avevamo bisogno di un momento così di shock. Ditemi la vostra ragazzi e ripeto nel corso della giornata proveremo ad approfondire. Di fatto se è per lui tre big conferma Leao conferma Ibra Orighi Botman ma non solo vediamo quali sono le risorse però per come ne parla anche su Ibra secondo me è uno che resterà perché dice Ibra tra 15 giorni vediamo non c'è problema per andare avanti quindi ha comunque delle visioni anche future. Vediamo cosa fa Redbird in questo momento però il risultato credo che sia tifosi con Maldini e non con Elliot che tra l'altro è un'uscita però potrebbe rimanere con una percentuale e quindi progetto di continuità non apprezzato da Maldini che vuole il salto di qualità. Ragazzi non lo so non lo so sono scioccato spero che questa intervista possa avere risvolti positivi ditemi la vostra lettura che cosa ne pensate scrivetelo qui sotto non facciamoci la testa perché c'è anche del buono nel futuro se c'è Maldini credo che ci sarà mi rifiuto di credere che dopo una stagione così non si vada avanti con lui però ecco dopo questo oggi Elliot Gazzidi si siedono al tavolo magari anche Gerry Cardinale che è a Milano e si vada avanti delineando il futuro per il bene del Milan che viene soprattutto iscrivetevi qui attivate la campanella se siete campioni d'Italia ragazzi non lasciamoci condizionare negativamente da questa intervista codiamoci l'estate prendete la maglietta se vi va su milanello.com quella rossa tricolore fantastica sta andando a ruba indossatela il 5 giugno dove ci vediamo per festeggiare sicuramente in quel momento le linee guida saranno un po' più definite belle e delineate un abbraccio forza a Milano forza a Maldini forza a Milano ciao